Truffa aggravata ai danni dello Stato, frode nelle pubbliche forniture sequestrati dalla Guardia di Finanza di Torino, denaro e beri immobili per valore complessivo di circa 600 mila euro nei confronti di un'azienda torinese specializzata nella produzione e commercializzazione di mobili d'arredi. Secondo l'indagine, l'azienda presentava in sede di gara certificazioni di conformità dei beni, artefatte, inducendo in errore enti come il Politecnico di Torino, il Comune di Torino o la Regione Lazio. L'operatore economico avrebbe condizionato procedure di gara attivate mediante il portale MEPA del valore complessivo di circa 1,2 milioni di euro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS